Già da 70 anni, i paesi avanzati utilizzano questo apparecchio che elimina i rifiuti alimentari e fa risparmiare tempo. Il funzionamento del dissipatore è molto semplice. Si apre il rubinetto, si aziona il dissipatore e si inseriscono rifiuti organici di vario tipo nello scarico del lavello. Frutta, verdura, pasta, piccole ossa. In poco tempo i residui organici ridotti in piccolissime particelle verranno eliminati attraverso il tubo di scarico. Il dissipatore si inserisce sotto il lavello della cucina collegandolo al tubo di scarico. Occupa poco spazio e si può installare su tutti i tipi di lavello. Il dissipatore non richiede manutenzione ed è assolutamente sicuro non utilizzando lame al suo interno. I vantaggi del dissipatore Migliora l'igiene domestica perché elimina i cattivi odori e gli insetti. Facilita la raccolta differenziata, aiuta l'ambiente e fa risparmiare tempo. I rifiuti alimentari, infatti, rappresentano un terzo dei rifiuti domestici e sono resi dal dissipatore biodegradabili al 100%. B I